Ho una sfida per voi, se questo video supererà 15.000 mi piace, tornerà la Weekend League a tema! Gli oggi sanno, gli oggi sanno. Salve a tutti ragazzi e bentornati a me in Shosha! È sabato e allora vuol dire... Ho buttato i soldi, eh 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 eh! Rush totale! Team 2! C'è Messi, c'è Nevar col cappello! E basta, vabbè no, qualcuno c'è. Proviamo a trovarli. Ho fatto anche l'icon e state per vedere... Ho ho ho! Raga, non so che dire, non so che dire. In questa stanza, anche se non li vedete, non c'è solo un mio figlio. Ce ne stanno tutti e due. E ne ha lì, e c'è Adele là, che non so se la vedete. O è così, o non si registra. Vi lascio al mic del passato, che vi fa vedere l'icon e un po' di pacchetti. Oh, le posso dire? E poi ci apriamo tutto lo store, ragazzi. Tutto, 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 tutto lo store. E speriamo bene, dai. Icon 87+. La cosa buona è che non ci sono portieri. Non può andare male. Voglio però andarli a vedere prima, tanto voi l'avrete aperto. Anzi, fatemi sapere voi che avete trovato se avete fatto questa SBC. Spero bene, ragazzi. Usabile, usabile. Ma li voglio andare a commentare con voi. Perché comunque, attenzione ragazzi, eh. Cioè, ce ne sono nove con un prezzo minore di 200.000. E tutti gli altri sono superiori. Jan Rush è il più putrito. Puzzolente, ragazzi. Jan Rush no. Klyvert, il secondo più putrito. E poi c'è Roy Keen. Allora, evitare sti tre. Jan Wright, Gattuso e Larsson pure me li vederei. Vabbè. Però dice è facile così, ma è che dai video sono i più forti. E vabbè, hai capito. Mi prendo pure uno Shapiro Alonso Olano. Allora, non mi piacerebbe inglese. Ah, perché c'è sta pure Bans. Eh, però Bans sta alto, eh. Vabbè, raga, mi piace tutto tranne quelli. Ovviamente che ci uscirà? Quelli. Ma certo. Ma senza dubbio. Allora, ragazzi, sto giro non farò nascondino. Andiamo dritti. Ce lo guardiamo. Allora, se la squadra rimane questa. Il portiere non me lo può dare. Allora, come upgrade ci potrebbe essere. Vabbè, il terzino destro. Uno Zambrota me lo accollerei. Un esterno. Un esterno. Oppure mi dai un attaccante e scalo Rafaeu. Vabbè, mi pio tutto, ragazzi. Mi pio tutto tranne quelli. Ma c'è una paura. Me lo vuoi da spagnolo. Il nigno. Icon 87. Ok. Mi sa che è inglese. AS e Bans. Non ci posso credere, ragazzi. Ho detto, ah, c'è sta Bans. Però almeno è alto a livello dove roll. Ma l'ho riconosciuto dalla saga, ma mannaggia la guazza. Vabbè, Bans, corricchia, dribbla, tira. Fa un po' tutto. Avece così tanto de costo. Non dovrebbe fare schifissimo, no? Però io stavo per dire. Non lo voglio inglese. Vediamo che playstyle c'ha. Dove si può mettere? Certo, AS e Rafinha. Prende il posto di Rafinha. Farei così schifo? 4-4. Controllata, sinistro. AS e SCOC. Poco passaggio, magari. Però corre, ragazzi. Dai. Perché fa così schifo? Finalizzatore, passaggi. Controllo di palla. C'ha pure la trivela e il razzetto, cavolo. Peccato che hanno facciato. Beh, ragazzi, sta appena sotto i più costosi. Ci sta Fernandino e Gianfranchino. Vabbè, questi qui ci poteva di molto, molto peggio. Vabbè, mi apro ste promo e ce li vediamo, dai. One hour later. Ma ce li vogliamo aprire dei golosi premi da Division 3? 10 pacchetti, 75 e più. 1, 84. Dai, uno buono. Già due già posseduti. Vabbè. Vabbè. No, però prendo Irene Paredes perché... Poi se l'ho già posseduta, ma in senso giusto. Ma comunque comodo nelle SBC. Mega pacchetto. Walkout? Manco per il cacchio. È un CTC. È un tedesco. Vabbè. Potrebbe essere chiunque. La Bundesliga mi è entrato qualcosa nell'occhio. Hendricks. Mamma. Tutto rega. Ma tu pensa, ammazzate in Division Rivals per Luperto, Pezzella e Amrabat. Che è andata al Fenerbahce. Pensa un po'. La vita a volte, ragazzi, è veramente infame. 10,75 e più. Manco walkout. E niente. Che te devo dire, ragazzi? Posso dire che non mi... Non mi ha detto per niente bene. O forse sì. Giustamente che fai? Ti vai a spacchettare i pacchetti? No. Ti dovresti fermare. Ragazzi, mi apro questi pacchetti qui. Partendo dal 2.500. Vabbè. Manco lo leggo, ragazzi. Manco lo leggo. 3, 2, 1. Vai! Vai! L'ultima volta da qua mi è uscita l'Icon. Ok. È donna però, ragazzi. ATT. Madre, Dio, Dio. Oddio. Che è un 86 questo? 87. Che è diventata questa? Che schifo, madonna. La pagiorra è quell'altra. Non me lasciate perdere. Me lasciate perdere. Metà dei maschi. Non le voglio le femmine. Non le voglio. Ma con tutto il bene, ragazzi. Nel videogioco, poi fuori, fanno quello che vi pare. La vita è ingiusta, ragazzi. La vita è ingiusta. Almeno è walkout. Manco walkout a mille FIFA points. Brasiliano cdc, dai. Casemiro. Casemiro. Ah, no. Che è? Cosa chiamo questo? Sì, chimaraesha. Vabbè, però sta Mbappé qua. Mbappé. Oh, Alex. Oh, è uscito uno diverso, ragazzi. No, aspetta, aspetta. Perché hai buttato? No, no. Perché hai buttato? Dammi chi li hanno Mbappé. No, vabbè. Vabbè, dai. Sei un figlio di... Una grandissima mignocca. Che fattume. Oh. Porfa, vai a dormire. Vabbè, ho black almeno. Mamma mia, ragazzi. Che male. Che male, oh. Ma mi dirà bene domani, dai. Un altro portiere. Un altro portiere. Un altro portiere. Un altro portiere. Oh. Mannaggia la pupazza, oh. Io inizio. Pacchetto per me. Dieci crediti. Ce li metto. Ce li metto. Ovviamente, vabbè. Fanno schifo. Atti di della Crozia. Della Bundes. Chi è? Cramaric. Caffettino magico a darmi la carica. Parchetto per me. Fai la tua scelta. Due giocatori e 86 più. Vai! Adesso mi devi... Ma che è così? Ma che è sta roba? Ma che ti ridi tu? Ma io pensavo che... Ah, scelta, certo. Mazza, è schifo. Vabbè. 89 Udegard. Allora, ragazzi. Di nuovo, cinque a scelta, eh. Ce li scegliamo. Dammelo buono. Dammelo buono. Tutti già posseduti. Ma com'è possibile, oh. Vabbè, allora questo è uno scam. Lasciamo perdere. Io esports in the game. Non ce ne ti chiedo tanto. Non ce ne ti chiedo veramente tanto. Ti chiedo pacchetti umani. Ecco fatto. Allora, io inizierei... Allora, questi sono degli scam. Ma questo potrebbe essere buono, ragazzi. È non scambiabile. Quindi qua c'è... Per forza il walkout. Perché uno è 86. No. Perché del Paris Saint Germain? Chi è? Vi digna. Scusate, ragazzi. La tele sta in mutande. Vi digna. Ah, ero 85 e più. Ma ho dato 85. Me ne faccio un altro. 85 e più. Dammi almeno un walkout. Portiere. Ma... Vabbè, porco due. Dai, è impossibile. Beh, non è possibile. Cicci spagnolo della Premier League. Vichiamo. Ah, Merino. 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 Però dai, regà. 85 e più. 285 sei vergognoso. Ma sei da una vergogna assurda. Ma che è? Dammi qualcosa di buono. Di buono, ti prego. Non è vita questa. Non è vita. Allora, signori di EA Sports. Lo vedete questo? È un trapano. E non ho paura di usarlo. E secondo me era veramente difficile fare peggio, eh. Ma proprio manco lontanamente. C'abbiamo un pacchetto da 100.000. Un pacchetto da 150.000. E due da 160.000. Se non li troviamo là... È un problema. Altri sei. Dico uno. 85 più garantito. Un walkout. Oh! È un walkout, ti chiedevo. CDC. Tedesco, eh. L'ho visto... È pelato, è quell'Arnold. Però già che me l'hai dato, magari sotto mi puoi dare qualcuno di buono. E finalmente, ragazzi. Mi puoi scammare tutte le volte, eh. Beh, non è pelato, però nella foto diciamo che Arnold... Sai che forse questo, ragazzi, me lo comprai in tempi non sospetti su Football Manager, ma tipo cent'anni fa. Infatti questo ormai... Guarda che dicei, sono proprio io. Mamma, mamma. Che poi non è manco bruttissima la carta, eh, devo dire. Vabbè, se non è spagnolo... Se non è spagnolo... Ok, grazie mille. Non guardo neanche quanto costa perché non costa niente, però Neymar, eccolo qua. Cento cinquantamila crediti. Che non dovete spendere perché... Non vesce niente. Oh, sì, walkout. CDC. Capello a Gundogan. Mamma mia, ragazzi. Tu pensa, spende centocinquantamila crediti per Gundogan 87. Cioè, non è... E lui fa pure lo stupido, capisci? Ragazzi, è pazzesca sta cosa, eh. Evviva! Pure non scambiabile, leschio! Vabbè, però guarda avanti 83. Bene, ragazzi. Devo dire che sono un matto. Me ne faccio un altro! Vedi, 300.000 crediti? Me l'ha ridato! No, questo è Bernardo. No, vabbè, ragazzi. Non ci posso credere, guarda. Cioè, io... Ah no, Rice e Bernardo. Guarda, lì va. Guarda che coppia, va. Guarda la coppia che scoppia. Cioè, se c'è un uomo sfortunato su sta terra, la so io. Allora, triplo walkout. Vabbè, open da... Manco male, 4.000 crediti ci siamo portati a casa, eh. Allora, ragazzi. A me sembrano parecchio scam. Cioè, non è uscito veramente nulla. Io proverei con 20 oggetti. 82 più. De cui 3,85 più. Oltre a due scelte Rush. Settimana 2. Sì, e ne. Sì. C'hai ragione, a piange. Ma adesso ci premierà! Oh! Ok. S. Benarama. Capirai. Leggio di quello di prima. Vabbè, però è stata la mia prima grande sculata, Donna Rum, eh. Quest'anno. Sculata, vabbè, sculata. Vabbè, Benarama. Però magari sotto c'è qualcosa. No, non c'è niente che deve essere meno di 89. Vabbè, Foden. Io Foden. Non vale più niente. Ma quanto sta Benarama? Cacchio, perché vale nulla. Poi Palma. Che però, niente ragazzi. Pure questi mi li do in testa. Vabbè, però. C'ho fiducia qua. Ah, va a dormire, va. Va, va a dormire, va. Vabbè. Intanto, ragazzi, escono solo quelli scarsi. Cioè, non c'è possibilità di far uscire uno forte. Guarda, guarda. È il massacolo in mezzo. Non me lo prendo. Non me lo prendo. Sì, ragazzi, devono mettere qua una cosa per andare all'SBC, cioè. Io stasera sto sinceramente in difficoltà. Non me ne dice bene una. Vado così. E chi si è visto? Si è visto! No, no, è una donna, no. Addì, inglese. Che stai, che hanno 86. No, bro, ragazzi. Non c'è proprio così, eh. Il Chelsea, chi è? Ah, 88. Chelsea. No, sta maledetta. Vabbè, ovvio però, ragazzi. Cioè, non l'avrei trovata. Altrimenti, cioè, è così. Però Sandrino Donali. Mi spona un po' messo là. Continuo scambiabili. Dammi il... Dai, madonna mia. Non è possibile. Oh. Cioè, non è statisticamente possibile che su quanti suoi giocatori escono sempre gli stessi. Oh, tre che non c'ho, dai. Porco due, va. Ma mi cossetta a piamme la femmina, incredibile. Provo qualche non scambiabile. Cioè, qualche scambiabile. Perché non scambiabile ormai ce l'ho tutti. E via, ragazzi. 84 o più, se qua non mi esce qualcosa di buono, non so che... Guarda. Due, oh. Mannaggia, due, oh. Chi è este? Ah, ma Rets. Chi è a Marets, ragazzi. Chi è a Marets. Chi è a Marets. 2000 più points. Marets, 85. Se sta a dormire, guardalo. Ebbè. Ebbè. Come non essere contenti. Oh. Hiro. Hiro. ATT. Tedesco. Dima che sei Rudy Fuller. No, mi sa che... No, Cole. Come si chiama? Gomez. Oh, Hiro, però. Attaccante è buono. Dombele. E? E? Rudy. Scambiabile. E mica può piovere per sempre. Oh. Let's go. Eh, non mi sta a premia per niente. Dombele. No. Rudy Fuller. E questo, ragazzi, potrebbe quasi andare in squadra, eh. Che giocatore sontuoso. Pazzo, raga, questo è forte. Quanto può costare? Un Rudy Fuller. Ebbè, raga, mi stava di veramente troppo male. A un certo punto mi devi premiare. Che posso dire? Dombele. Dall'alto dei suoi... Ah, se sta a spassa i crediti, per forza. Oh, 92 dribbling, però, Dombele, eh. L'ha impazzito. Almeno 200.000. Quanto costa Rudy Fuller? Oh, qua stiamo 800.000. Bravo, Enea. Bravo, resta qua. Tutti i pacco venin con te. Let's go. Oh, è finalmente, ragazzi, è finalmente. Questo quasi, quasi, mezzo che si potrebbe usare in Weekend League. C'è sto, c'è sto. Allora, c'ho l'ultimo, ragazzi. E dopo Rudy Fuller, uno schifo. Altro onde? Eh, vabbè, vedi. Vabbè, giusto per riportarti sulla terra, per dirti. Guarda che era un caso, infatti. Del Leverkusen, esatto. Il mitico, come si chiama? Palasios. Tra l'altro Rudy Fuller, leggenda per Leverkusen. Lavora proprio per Leverkusen. Ultimo pacchetto e poi ci salutiamo così. No, con la donna, no. No, allora il prossimo è l'ultimo. Non ci potevamo salutare con la donna, no, no. Ah, brati, brati, brati. Però uguale, ragazzi, cioè. Che monnezza. Ah, scelta. Madonna, no, no. Ma io devo proprio soffrire fino all'ultimo. Ma devo soffrire fino all'ultimo. Vabbè, però te posso dire. Mettiamo Rudy là sopra. O de qua. O de là. Si può giocare. Abbiamo salvato il salvabile. Fatemi sapere chi avete trovato voi. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.